Roberto Tatangeli, fondatore assieme a Paolo Garlando della piattaforma Best Golf. Tatangeli, Best Golf ha realizzato questa piattaforma che offre molteplici opportunità per organizzare la propria vacanza all'insegna del golf, ma non solo. Nello specifico, quali sono i principali servizi offerti dal portale? Il portale è nato per dare e far acquistare Green Fee dei golf italiani nel mondo, cioè crea la visibilità e la vendibilità dei golf online, non con la classica richiesta che poi deve avere una risposta via mail, ma crea un contatto diretto, un pagamento e una conferma di poter andare in campo e giocare. Questo è lo scopo. In più crea la vendibilità dei circoli ovunque. È un venditore che è in piedi 24 ore al giorno, 365 giorni l'anno e vende anche quando le segreterie sono chiuse. Crea una connessione direttamente e riceve immediatamente, ripeto, una conferma di poter andare in campo perché si paga il Green Fee scontato e si va in campo dove è il campo che si è scelto. Questa è la vocazione per cui è nato Best Golf. Di qui ai prossimi anni l'Italia, in particolar modo Roma, ospiterà degli eventi dal punto di vista golfistico molto importanti. Mi sto riferendo all'Open e mi sto riferendo soprattutto alla Ryder Cup del 2022. Quali possibilità vi sarà anche per il turismo golfistico e quali ricadute vi saranno positive sul territorio, quali anche opportunità per l'indotto? Guardi, una cosa che io ringrazio gli datori che hanno fatto parte appunto di questa manifestazione che fa morale per chi si è buttato in questa avventura. La cosa importante da dire e sottolineare che non sono i quattro giorni di gara o cinque giorni di gara che offre la Ryder Cup. È tutto un indotto due anni prima e due anni dopo che si crea a livello turistico e golfistico perché chi sa che a Marco Simone ci sarà la Ryder Cup due anni prima vuole farsi la fotografia all'ingresso del Marco Simone e può voler dire io ho giocato lì dove stanno facendo la Ryder. Questo per i 30-40 milioni di golfisti nel mondo vuol dire qualcosa e questo vuol dire creare un indotto due anni prima e due anni dopo un indotto turistico che può portare delle grandi soddisfazioni e noi ci mettiamo lì a servizio per prenotare direttamente i campi da golf con la nostra applicazione. L'Italia potrà diventare entro breve tempo una meta di prestigio all'interno del panorama golfistico internazionale e quale ricadute ci saranno soprattutto per il turismo fuori dall'alta stagione? Questa è una bellissima domanda. L'Italia è già una meta ambita, però è una meta ambita per il turismo classico. Noi vogliamo destagionalizzare, cioè far giocare molti giocatori nei momenti in cui magari il turismo ha bisogno di far comprare camere e questa è la vocazione del golf. Calcoliamo che noi la nostra stagione che stiamo a ottobre, ci sono 24 gradi, questo per noi deve essere un prodotto vendibile. Abbiamo questa opportunità e dobbiamo venderla, dobbiamo soprattutto prima di venderla farla conoscere e in questo caso una buona comunicazione a livello territoriale nella regione deve essere fatta. Le strutture spero che in questa occasione abbiano capito che ci devono dare supporto, ma supporto sia nella disponibilità che nell'adeguare le strutture all'esigenza del golf, perché è quello che vuole il golfista, che quando viene accolto abbia quelle caratteristiche che il golfista in tutto il mondo ha. Perciò servizi e soprattutto una buona conoscenza dell'ospitalità golfistica. Grazie mille per questa intervista. Grazie a voi, gentilissimi. In bocca al lupo a tutti. Grazie mille.